La Soccer Stornara espugna il Miramare, batte 2-1 in finale lo Sporting Manfredonia e conquista la promozione in prima categoria. La formazione del tecnico Michele Schiavone si è imposta con le reti nella ripresa di Amoruso al cinquantesimo e di Lucente al cinquantasettesimo, intervallate dal momentaneo pari, siglato da Trotta al cinquantacinquesimo, che purtroppo non possiamo mostrarvi in quanto il nostro cameraman non è stato dato accesso alla tribuna stampa. Grande gioia per i biancoverdi che hanno fatto partire la festa al novantesimo minuto, che si è poi protratta per le strade della comunità dei Cinque Reali City. Un lungo percorso con Michele Schiavone alla guida della formazione biancoverde, che ha segnato la vittoria nella finale che valsa il campionato di prima categoria, che potrebbe addirittura diventare promozione con la trattativa aperta con il Maracanà San Severo, come anticipato a fine partita dalla proprietà della famiglia Posillipo. Dopo la partita abbiamo ascoltato il tecnico Michele Schiavone. Abbiamo fatto un'impresa vera e propria, abbiamo scritto la storia calcistica di questo paese. Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di unico. Dopo sette partite avevamo 14 pugni dalla capolista. L'unica possibilità era fare la finale playoff. La finale playoff l'abbiamo fatta e l'abbiamo vinto. Ci siamo tolti una grandissima soddisfazione. Adesso programmaremo per piano piano il futuro. Comunque voglio fare i complimenti a tutti quanti, regalare questa vittoria alla famiglia Posillipo. Sono troppo felice e va bene così. Un abbraccio a tutti. Forza so che stornara.